Pensare veramente in un altro modo, mandare a casa, in una casa che la costruiamo apposta per mandarci e andare oltre questo dilettantismo politico e questa falsità, sono falsi, sono falsi e lo vedo con questi ragazzi che sono dentro, cosa battiscono? Fanno la legge sul seminicidio, bene, dentro ci mettono il paragrafo 5 che abolisce, il paragrafo 7 che abolisce la legge 41 e hai mezz'ora per votare il femminicidio, fai a vedere cos'è e che quel paragrafo lì toglie il comma che aboliva le province, quindi attraverso il femminicidio non aboliscono più le province e poi noi non abbiamo i soldi per fare il reddito di cittadinanza, noi ce li abbiamo, aboliamo gli F-35, le missioni del caccio in Afghanistan!